Ciao ragazzi, oggi Nick e Stefan vi presentano il nuovo Amici Cucciolotti edizione 2024 e guardate qui che bel cucciolo, lui si chiama Jerry, Jerry saluta tutti, saluta i nostri follower, saluta tutti Beh ragazzi, passo la parola a Nick e Stefan che vi presentano questo meraviglioso album e come sempre ricordo di amare gli animali, mai maltrattarli, vi raccomando Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo Nick e Giù, quest'oggi come avete detto da Giulio prima andiamo a scoprire il nuovissimo album dei Cucciolotti 2024 scopriamo l'album e andiamo ad aprire ben 4 busine che sono contenenti all'interno dello starter pack è il libro cartonato diciamo, è il libro speciale, perciò andiamo a scoprirlo, vamos! Ok ragazzi, eccoci qua, come dicevamo prima con Stefan è l'album libro in edizione limitata prezzo di 4,90€ e all'interno abbiamo l'album più 4 busine Amici Cucciolotti, le figurine che salvano gli animali esattamente perché questa qua ragazzi è una collezione tutta a scopo benefico bastano 8 busine per riprire una ciotola di un cucciolino poi all'interno il regalo abbiamo il portadoppie e il portacarde come ogni anno così come l'anno scorso e quest'anno novità, come stava dicendo anche Stefan, abbiamo un fantastico Gagliardetto che se non sbaglio negli altri anni non c'è mai stato Cucciolotti che è una raccolta molto molto storica per la mia gioventù ma anche per le gioventù passate le figurine che fanno veramente del bene basta non restare 8 busine per riprire una ciotola Stefan già distrugge tutto prima però leggiamo qualche associazione qua dietro troviamo un po' di associazioni fermo, fermo, stiamo calmi qualche associazione che è a scopo benefico di questa ho già visto le figurine per me a cui si vanno in beneficenza queste donazioni complete tu albolo e realizzerai le missioni possibili 20-24 gli animali, i bambini e i nonni ti ringraziano speciale album libro è come dicevamo 4,90 euro eccoci qua, qua abbiamo il nostro album libro che appoggiamo momentaneamente qua a lato qua abbiamo le nostre 4 busine attaccate a 2 a 2 all'interno abbiamo 6 figurine più una card e andiamo subito a verificare andiamo subito a verificare il prezzo di una bustina singola che dovrebbe corrispondere a 70 centesimi l'una anche se qua non c'è scritto non c'è scritto dietro ma dovrebbe, questo non è vendibile però si c'è scritto 70 centesimi bravo Stefano, lista di Falco, occhio di Falco eccolo 70 centesimi l'una eccolo il gagliardetto bisogna inserirci il filo qua e possiamo appenderlo campioni di solidarietà grazie a te bello perché è rubido ma è anche 3D ste? no lo so fosse 3D perché di solito questa superficie qua è rubido vedete che si intravede un po' nel video che è diversa e dietro abbiamo questo gagliardetto da collezione speciale come te tu sei importante perché fai parte della squadra dei cucciolotti explorer e insieme salviamo veramente gli animali e l'ambiente vero ragazzi questo è un album molto molto bello anche per lo scopo che ha qua abbiamo i cucciolotti card per giocare il campo da gioco e dietro abbiamo la copertina in grande quella che abbiamo visto prima nella plastica ecco qua e Stefano invece ha già montato bravissimo il porta doppie anche qua troviamo bastano 8 bustine per ripiere la ciotola e poi più siamo più siamo più ciotole riempiamo passa parole le doppie sono a pressione puoi scambiarle o regalarle molto bello a questo porta doppie e lo appoggiamo anche in questo qua e cucciolotti porta cards colleziona tutte le 72 cards cucciolotti porta card che sembra uguale praticamente a quello dell'anno scorso ma cambia mi sembra che sono un po' di più le card mi sembra può essere 72 card non mi ricordo quelle dell'anno scorso comunque siamo là coinvolgi i tuoi amici in vincente partite e più giochiamo più animali salviamo bene prima di andare a spacchettare le 4 bustine che troviamo qua andiamo a scoprire l'album vai stefan sfoglia pagina per pagina intanto appoggiamo il resto qua allora entra bene in inquadratura eccola qua fai rivedere la prima pagina che non si vedeva molto bene bella la galassia così la galassia con la terra qua che va verso il mondo forse no la terra questo non è il mondo e vari universi sembrerebbe sicurine per amore ricordiamo l'editore che è Pizzardi Pizzardi editore questo album è di la squadra più inclusiva del mondo e questo album è di ovviamente mettete il vostro nome Cuccelotti 2024 mi sembra che si ispira alle olimpiadi perché quest'anno infatti ci saranno le olimpiadi a Parigi vediamo ciao Cuccelotti Explorer quest'anno a Parigi si svolge la 33esima edizione delle olimpiadi e la 17esima delle paralimpiadi estive per questa abbiamo preparato un'edizione speciale del vostro album preferito dedicato alle olimpiadi della natura bello bella come idea venite a scoprire insieme a me e i vostri amici nasoni i campioni 2, 4, 6, 8, zampi con le ali, con le pinne e tanto altro buon divertimento bello l'incipito la cosa che vorrei che c'è che ci fosse scusate non so parlare che ci sono le figurine forse perché ci sono questi tanti scrivi il tuo nome con le lettere adesive che troverai sui mini sticker quindi si ci sono le mini sticker con le lettere avviso cucciolotto se vuoi completare il tuo album in maniera perfetta attacca le figurine con cura attenzione se ti accorgi subito di aver applicato la figurina a posto di un'altra puoi provare a staccarla ma devi farlo con massima delicatezza e riapplicarla nella giusta posizione se invece ti accorgi in un secondo momento dell'errore non cercare più di staccare la figurina perché lo viene nel tuo album ma attaccaci sopra quella giusta vabbè fin là vale questo per tutti gli album e poi parte il fumetto il fumetto molto bello questo libro questo libro album album libro bella questa idea che ci sono in tutti gli album c'è sempre la figurina la figurina a completamento le medaglie d'oro degli nasoni indice indice non indice non so più parlare ragazzi indice di tutto l'album ben 112 pagine di questo album allora sbrighiamoci perché altrimenti qua stiamo fino a mezzanotte a guardare questo album bello che attacchi pure queste figurine qua si vabbè ormai lo sappiamo partiamo vai i trofei di un odio un vero cucciolotto explorer importante importante come un simbolo si vai vai sfoglia sfoglia chi vince velocità quindi la prima prova quale sarà l'animale più veloce lo scopriamo non ad attaccare la figurina credo l'ape no poi la resistenza qua andiamo a vedere quale sarà l'animale più resistente poi le olimpiadi della solidarietà lo sport preferito dei cucciolotti explorer e aiutare i più deboli anche qui infatti come dicevo prima quest'album è a scopo totalmente benefico per varie associazioni sollevamento pesi quale sarà l'animale più forzuto la scimmia molte belle le figurine così non penso che sia la scimmia poi sotto troviamo anche il nome in inglese sotto le figurine il ginnastica artistica quindi quale sarà il cucciolo l'animale più atletico speciale figurine florescente ok qui ci sono un po' di figurine di vari sport ah si è vero varie figurine florescenti salto in alto salto in lungo primo, secondo, terzo quindi quali saranno le animali che saltano più in alto e saltano in lungo il canguro beh il canguro lo metto secondo per me non so chi lo andremo a scoprire attaccando le figurine super genitore record periodo di allattamento super papà allenatore a spasso con mamma il porto del papà quindi varie figurine dei cuccioli penso con i loro padroni e 2024 continua la più grande donazione di cibo mi sembra che anche nello scorso album c'era anche questa pagina si si ma quella c'è sempre perché ricorda che acquistando le bustine possiamo aiutare a acquistare delle ciotole rumorosi nasoni pelosi profumati giocherelloni puzzolenti spinoni strani e boh ok ole gli stranosauri che non sono gli stranosauri ma gli stranosauri campioni di stranezza dogs bello molto cute questo cane tipo intelligenza 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 artificiale sembra fatto con l'intelligenza artificiale vero? tenari cuccioli qua quindi partono i vari animali che abbiamo il riccio il riccio il ghepardo la leonessa l'orso bruno il porcellino d'india guardate che carino qua il porcellino d'india che è scappato su le parti sport invernali quindi il sport che non si pratica l'estate ma in inverno come lo sci vai le grotti campioni di simpatia qua cantano bello il gufo qui si quei due gufetti va a completare vai 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 campioni di immersione in apnea quindi l'animale più capace a stare sott'acqua lo squalo i pesci penso non siano classificati perché noi ti vincerebbero facili strane sfide colpi di colci incontro di box sfilata di moda bella incontro e vabbè dai non parlo più poi abbiamo special quattro figurine special metal va bello che ti dice tutti di non buttare la plastica in mare mi raccomando ragazzi perché altrimenti poi nuoto se la subiscono tutti i nostri pesciolini e poi alla fine i pesciolini che si li mangia noi quindi ci rimettiamo solo noi stessi nuoto guarda il bel pesce spada che c'è qua si campioni che salvano vite bella questa immagine molto bella è vero perché i cuccioli e gli animali oltre ad essere molto carini sono anche molto importanti e spesso se ci salviamo è anche grazie a loro monostrami di nasopoli buone notizie cucciolotti cucciolotte ah si è vero cucciolotte quando l'uomo si prende il cuore della natura eh cosa che purtroppo negli ultimi anni sta un po' scomparendo anche se speranza eh si quindi qua scopriremo varie curiosità eh bello bello anche l'anno scorso c'era il ca il ah va così va così il calendario 8 sport calendario sportivo ah quindi tutto sportivo quest'anno l'album vediamo quale sarà la prima figurina ad apparire qua ovviamente successivamente curiosotti dormiglioni rom rom una macchia quindi come dormono i cucciolotti e poi la sveglia che li sveglia scusate i giochi di parole mostriadi fantasma scheletri creatura drago unicorno sirena la saggezza la saggezza dei nonni vabbè cielo pecorelli le famose frasi poetiche chi trova un amico trova un tesoro eh già le figurine che fanno bene a tutte le tante giocare divertirsi e ridere fa bene a tutti bella queste pagine le olimpiadi dei nonni le olimpiadi dei nonni addirittura specialmente a gorge 200 anni 211 anni 250 anni 83 anni bah di te che è una persona ha un record in sanità 400 anni wow socia ha vissuto quattro secoli le storie di questi la mega direttrice bautera che abbiamo un po' di racconti super sensi i super sensi eh già perché gli animali come dicevo prima molto sono spesso sono molto più intelligenti degli uomini te lo dico ring anche quest'anno quindi si ripresenta la pagina internazionale diciamo varie frasi tradotte sei forte in spagnolo buona fortuna in francese presto in tedesco e così via allenamento relax del cane quindi con la stalla riaperta ma che bel muso quindi qua troviamo delle infatti si intravedono dei musi molto carini e molto cute degli animali gli amici di albi quindi gli alberi gli amici degli albero il più alto 116 metri un album il bosco vi ringrazio c'è un albero più alto 116 metri come un grattacielo di 38 piani dove si trova dove si trova in california in california in california e buone abitudini per stare bene insieme eh già per favore scusa grazie prego qui tutte figurine buonanotte tranne questa buongiorno grazie prego piccoli campioni insetto più resistente la libellula c'è scritto libellula buona certe cose in quest'album ti fanno imparare tantissimo animali guida animali guida allenamento relax del gatto vabbè giusto che mettono il cane poi il gatto che sono due animali le foto di mauro le più premiate e chi è mauro aquila leopardo nebulo nebuloso giraffa pantera nera gorilla mettiamo insieme i pezzi per vincere il bullismo eh si ragazzi perché il bullismo è una cosa molto ma molto brutta che va risolta bello se sembra impossibile la torre nefello qui dietro si vabbè perché le olimpiadi saranno a parigi lei dovrebbe essere bebevio che è molto famosa missione possibile ecco il progetto bebevio academy si allora è bebevio lei poi abbiamo bello cucciolotti poster ah è un poster questo ma no boh è pagina 91 figurine dalla tre sì è una specie di poster però che sta dentro l'album olimpiadi pre-storiche 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 no no non è alle grotti curiosi qua troviamo gli animali che i cuccioli che spirciano cats i gatti quindi in inglese con il tuo amico quattro zampe ah è anche un quiz vedete qua il gatto si lega di tutta la mente le labbra cosa vuol dire a fare b è preoccupato ci è arrabbiato i talenti degli animali posso dire un'altra cosa della scorsa pagina che cosa che c'è la risposta all'incontrario soluzione A è vero non me l'ha accorto i talenti degli animali le frasi che dovremmo imparare a dire più spesso eh già chissà quali saranno vabbè però penso che si possono indovinare molto facilmente quindi ti voglio bene grazie eccetera per favore arrampicata sportiva qua i cucciolotti che si arrampicano campioni che salvano il pianeta elefante lupo cavalli che passione quindi le pagine dedicate ai cavalli bello chi che lo guardano con la fotocamera è vero li fanno il video cucciolotti card quindi qua troviamo tre figure che vanno attaccate qua che ci spiegheranno le card come si gioca quindi per il gioco ed eccoci all'arrivo siamo alla fine dell'album eccoci all'arrivo del del fumetto anche e concludiamo con completare vabbè come completare l'album ordine le figurine ci prendiamo cura dei nostri collezionisti e arrivederci al prossimo album troviamo l'Italia l'Europa generale con l'Asia che è un po' qui in qua allora eccoci qua con le nostre pronte quattro bustine pronte ad essere spacchettate facciamo due due sta? va bene ok allora prezzo come dicevamo prima è di 70 centesimi l'una e all'interno abbiamo sei figurine più una card vai Stefano allora parti tu vai fai prima le tue due le 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 bustine il packaging è tutto uguale ecco ha scritto non vendibile separatamente perché è all'interno dello starter pack però subito una cosa fluo vediamo questa sia la card vai rimuovi qui leggiamo già cavallo togli togli infatti è cavallo ok un cavallo che riposa ok poi abbiamo non ti isolare spegne il cellulare ok poi abbiamo gli animali ti ringraziano dinosauri fan dei dinosauri fan dei dinosauri eh vabbò fan dei dinosauri ce l'abbiamo fatta ok poi il personaggio dei cucciolotti chi è questa è una sirena ah si è una sirena infatti sirena e poi troviamo e tatuaggi ah davvero tatuaggi bravo stefan la card la tolgo ok e poi la card bella shark mamma mia che che squalo super arcobaleno mamma mia sembra quello che ha le fiamme shark è un temibile predatore dei mari con tanti denti ok io mi sapevato qua vado a sinistra ok mettiamo tutti insieme la sequina che è appena spacchettato e la mettiamo qua vai 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 oh vediamo già la card la card qui mi mette la card ole bello che bellino questo cane sott'acqua dopo questo cagnolino immerso continuiamo con ecco un vero peso piuma peso fiuma bella questa con questo pulcino con questi guantoni poi abbiamo un cucciolo che gioca tennis vediamo se è proprio ah aprile la prima figurina che si incollerà dell'album dell'album con la pagina poi abbiamo la gazzella di thompson un due coniglietti oh mamma che brutta st'ape e poi una bellissima tartaruga una tartaruga cute diciamo ok andiamo con il terzo e penultimo pacchetto se non che il primo dei miei allora partiamo con lo scogliattolo prenditi cura del tuo pianeta scherma quindi lo sport di bebe dio inverno estate che sia la natura è sempre una magia poi abbiamo una figurina trasparente che andrà in qualche post smile del fumetto oh mamma che brutto mamma mia che brutto squalo e poi la carda ancora più brutta una tarantola mamma mia ma come sono fatte queste carte colorate boh andiamo con l'ultimo pacchetto ed eccoci con la farfalla giriamo abbiamo il coleottero giraffa poi abbiamo un cagnolino con una pallina da tennis in bocca che gioca sono filo di tè un ranocchio con una lumaca un un dinosauro penso una faccia di un dinosauro un altro dinosauro e la card anche questa super colorata sia horse ovvero il cavalluccio marino bene stefan siamo giunti al termine di questo starter pack dell'album dei cucciolotti 2024 andiamo ai saluti bene ragazzi dallo starter pack dell'album dei cucciolotti 2024 è tutto molto molto bella questa collezione come ogni anno come al solito ricordi iscrivervi al canale iscrivervi al canale iscrivervi al campanile iscrivervi al video commentare su questo video seguirci sui social link iscrizione se volete potete amare al mio canale a prezzi bassissimi bloccati altissimi vantaggi e se volete potete acquistare su amazon il diario del collezionista il diario del fattacalcio e il diario del password ciao ragazzi ciao ragazzi bene ragazzi Jerry e io vi salutiamo al prossimo video magari facciamo un super spacchettamento con amici cucciolotti vedete vuoi farlo te Jerry Jerry dai lo facciamo insieme a Jerry insieme a Jerry Jerry aprirà otto bustine vai Jerry apre le bustine no è annoiato è annoiato sbadiglia ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti